E' il più grande quiz di successo al mondo e per l'ennesima volta sta per ritornare anche in Italia. Arriva su Superseva TV la seconda stagione di Chi vuole essere milionario, un grande spettacolo. Vi aspetto qua in studio a Chi vuole essere milionario. Da venerdì, prima serata su Superseva TV.